Se ne smette i ha dei sopeci, de quel che i ha dit e de quel che i ha fatto, allora, allora non le pia il pin, allora le inda in congedo. Ma per noi della sezione di Vittorio Veneto, benché qualcuno pensi che possa aver lasciato il campo ed essersene andato in congedo, benché la stampa nazionale ci sia spizzardita a dire che chissà cosa ci sarebbe stato oggi a ricordarlo. Signori, oggi a ricordarlo ci sono i suoi sconci e c'è il suo basto. Ora di Rosso, l'ultimo mulo militare, ultracentenario, dall'alto dei suoi 40 anni, corrispondenti a 120 anni per gli uomini, ora senza il basto che appesantiva potrai pagare lassù tra i tuoi alpini e tanti.